Presentata un'iniziativa di beneficenza programmata per il prossimo 4 giugno alle ore 21 e 30 sulla terrazza panoramica dell'Alexander Museum Palace Hotel di Viale Trieste a Pesaro. L'evento, uno spettacolo dal titolo Il Soffio della Nuova Vita, ideato da Roberta Arduini, che anche voce recitante e autrice dei testi, vedrà l'esibizione del quartetto Oasi di Pesaro. Presenti anche i valenti maestri dell'orchestra sinfonica Rossini. Questo spettacolo nasce proprio per venire incontro a questa domanda di senso, a questo annientamento che ci affligge in questo momento epico, quindi alla paura, alla sofferenza, la paura dell'ignoto. E quindi è uno spettacolo che dà spazio a un senso di rinascita, accoglieremo la rinascita proprio attraverso la voce di Madre Terra. Abbiamo bisogno di speranza, l'artista ha bisogno di dare speranza anche quando lui stesso si trova all'inferno, quindi credo che sia un evento di cui abbiamo bisogno noi stessi e che possiamo donarlo agli altri con altruismo, anche tangibilmente con i fatti, cercando questi proventi per le terre di Romagna che sono state alluvionate così vicine a noi, quindi a noi tanto care. L'evento di beneficenza è stato proposto al Conte Alessandro Marcucci Pinoli che lo ha promosso nel suo Alexander Museum Palace Hotel, noto per i tanti incontri culturali e per il progetto La Rivoluzione del Buon Esempio. Appena è venuta questa mia cara amica che tra l'altro è una bravissima scrittrice e anche attrice per dirmi che avrebbero fatto questo spettacolo gratuitamente per aiutare tutti questi alluvionati in Romagna, io ho accettato subito perché rientro in questo mio grande impegno che porta avanti da anni per questa rivoluzione del Buon Esempio, cercando di portare dei buoni esempi, lo schiedo nei libri, nei miei quadri, nelle sculture e soprattutto con i manichini che porto in giro per tutta Italia perché sono convinto che il buon esempio sia tutto. Come ho detto tante volte, i bambini imparano a camminare vedendo i genitori, a parlare ascoltando i genitori, quindi il buon esempio è tutto. Lo scopo dell'evento è coinvolgere istituzioni, associazioni, enti locali e cittadini per una raccolta fondi e una rinascita delle terre alluvionate. E questo è un buon esempio perché è una raccolta di fondi per questi sfortunati che hanno avuto queste tragedie enormi, hanno perso tutto, quindi vanno aiutati. Molti se la cavano dicendo poverini o preghiamo per loro, mi sembra un po' poco. Molti giovani per fortuna sono andati a sparare il fango, chi non può andare può dare un suo piccolo contributo, un piccolo obo. Quindi domenica prossima, 4 giugno alle ore 21, ci sarà questo spettacolo per beneficenza, offrirò anche un aperitivo. L'offerta è libera, ovviamente cartacea, non con le monetine o un euro, però è libera. Quindi tutti possono venire, i posti sono 60, mi raccomando, o di prenotare o di venire per tempo.